buongiorno sono marida ferrara consulente immobiliare remax stella polare oggi ci troviamo qui a carbonara e precisamente in via goito per presentarvi questa splendida soluzione indipendente con ampi spazi esterni la volete visitare andiamo qui ci troviamo al piano terra in cui abbiamo un bellissimo bagno in mosaico un piccolo ripostiglio volete vedere la zona notte andiamo qui abbiamo stanza da letto matrimoniale con relativa cabina armadio un altro bagno in mosaico e cucina in muratura e per finire questo ampio terrazzo di proprietà per cui se siete interessati contattatemi